muore al santelia i familiari chiedono approfondimenti antonella geraldi 53 anni lascia il marito michele palermo e i figli federica e marco minaccia e lesioni la denuncia di una trentenne che si è rivolta al commissariato di polizia di canicattì lotteria italia premio da 20 mila euro a caltanissetta la befana alla stazione di caltanissetta centrale momenti di gioia per i bambini io mi diverto tour lello analfino entusiasma la folla a san cataldo calcio prima vittoria dell'anno per san cataldese e nissa ben trovati muore al santelia i familiari di una donna di caltanissetta chiedono approfondimenti antonella geraldi 53 anni lascia il marito e due figli muore all'ospedale santelia dopo che era stato predisposto un intervento chirurgico una donna di 53 anni nota caltanissetta per la sua attività commerciale titolare di un negozio di piante fiori in via calabria a due passi da viale della regione in prossimità della questura dove ora si respira aria di profonda tristezza era in prima linea non solo nella preparazione di matrimoni e altre cerimonie anche nella realizzazione degli addobbi floreali di diverse manifestazioni della settimana santa nissena antonella geraldi lascia il marito michele palermo col quale condivideva anche l'esperienza lavorativa e i figli federica e marco dopo la morte della donna i familiari si sono rivolti ai carabinieri e assistiti dagli avvocati massimo dell'utri e giuseppe panepinto ora chiedono approfondimenti sulle cause del decesso avvenuto il 6 gennaio e su tutte le fasi successive all'arrivo al pronto soccorso e al ricovero nel reparto ospedaliero elementi utili in tal senso potrebbero emergere già dalla cartella clinica che è stata richiesta antonella geraldi era una persona stimata per la passione e la dedizione che metteva ogni giorno nel suo lavoro con un atteggiamento sempre solare disponibile sui social sono centinaia i commenti di amici parenti e semplici conoscenti che esprimono sentito cordoglio e la ricordano con parole cariche d'affetto e notevole commozione minacce e lesioni la denuncia di una trentenne che si è rivolta al commissariato di polizia di canicattì le ipotesi di reato configurata a carico dei proprietari di un appartamento in via nitti a canicattì sono minaccia lesioni personali violazione privata e violazione di domicilio l'episodio si è verificato nel comune in provincia di agrigento dove la locataria avrebbe dovuto lasciare la casa secondo il contratto di locazione a fine febbraio dallo scorso ottobre invece i proprietari della residenza avrebbero iniziato a minacciare gli affittuari secondo la versione dell'accusa perché volevano liberata la residenza così dopo alcuni episodi di violenza la locataria una ragazza di 31 anni di canicattì si è rivolta alla polizia di stato per denunciare quanto accaduto la proprietaria dell'appartamento secondo l'accusa sarebbe entrata nella residenza data in affitto e avrebbe iniziato a spintonare la 31enne facendola cadere inoltre la proprietaria della casa dopo averla lanciato contro un tavolino avrebbe tentato di scagliare contro di lei anche la televisione da quel momento in poi secondo la denuncia la proprietaria dell'appartamento avrebbe iniziato a insultare quotidianamente la famiglia della 31enne con minacce di morte e anche con frasi via whatsapp così in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto di locazione la famiglia ha lasciato la residenza di via nitti la ragazza di 31 anni però ha deciso di raccontare tutto alla polizia e denunciare la proprietaria dell'appartamento covid nel nisseno 389 positivi nell'ultima settimana 126 a caltanissetta 108 a gela 42 a san cataldo nella provincia di caltanissetta sono in crescita le infezioni da covid 19 negli ultimi sette giorni riscontri di 389 pazienti positivi al sars cov 2 tutti in isolamento domiciliari 126 pazienti di caltanissetta 108 di gela 42 di san cataldo 29 di discemi 15 di sommatino 15 di valle lunga preta meno 9 di serra di falco 8 di mussomeli 8 di mazzarino 6 di riesi 6 di milena 3 di delia 2 di campo franco 2 di villalba 1 di buon pensiero 1 di butera 1 di marianopoli 1 di montedoro 1 di resuttano e 1 di sutera 22 ricoverati in degenza ordinaria 7 pazienti di caltanissetta 5 di gela 4 di san cataldo 2 di serra di falco 1 di niscemi 1 di santa caterina villarmosa e 2 provenienti da fuori provincia 20 dimessi dalla degenza ordinaria di cui 6 pazienti di gela 5 di caltanissetta 4 di niscemi 2 di san cataldo 1 di delia 1 di mazzarino e 1 proveniente da fuori provincia 3 i deceduti pazienti positivi al sars cov 2 1 di gela 1 di san cataldo 1 di mussomeli 229 i guariti 81 pazienti di caltanissetta 61 di gela 25 di niscemi 12 di san cataldo 10 di mazzarino 6 di valle lunga preta meno 5 di santa caterina villarmosa 5 di mussomeli 4 di milena 3 di butera 3 di campo franco 3 di resuttano 3 di serra di falco 3 di sommatino 2 di villalba 1 di delia 1 di riesi e 1 di sutera un andamento che rispecchia i dati che già la scorsa settimana a livello regionale hanno registrato un aumento dei contagi del 26 per cento secondo quanto emerso dall'ultimo bollettino settimanale del dipartimento delle attività sanitarie l'osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla salute della regione siciliana si tratta quindi di un lieve aumento delle nuove ospedalizzazioni sebbene molti contagi siano stati rilevati su soggetti ricoverati già per altre patologie o altre cause lotteria italia vinto un premio da 20 mila euro a caltanissetta in molti da queste parti hanno sognato il primo premio da 5 milioni di euro della lotteria italia estratto il 6 gennaio il biglietto milionario è stato venduto a bologna a palermo una vincita di seconda categoria 50 mila euro a caltanissetta solo una terza categoria 20 mila euro il biglietto venduto nel capoluogo nisseno riporta il numero di serie b 21 23 27 il ventottesimo dei 192 biglietti estratti 20 mila euro sono stati vinti anche a milazzo palermo acicastello sciacca catania pedara belpasso e barcellona pozzo di gotto i premi di prima categoria sono stati comunicati durante la trasmissione soliti ignoti il ritorno condotta da amadeus su rai 1 i possessori dei biglietti potranno procedere alla richiesta di riscossione del premio entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bollettino dei premi finali della lotteria italia presentando o facendo per venire il biglietto all'ufficio premi di lotterie nazionali di roma in alternativa i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell'istituto di credito indicato nel regolamento in questo caso la banca ritira il tagliando e lo inoltre all'ufficio premi di lotterie nazionali rilasciando al giocatore apposita ricevuta al giocatore inoltre saranno richieste le generalità il suo indirizzo e la modalità di pagamento scelta a segno circolare a credito su conto corrente bancario o postale betlemme agli angeli appuntamento conclusivo nel giorno dell'epifania dopo il periodo di chiusura a causa covid quest'anno si sono riaperte le porte del presepe vivente dello storico quartiere arabo ed è stato un gran successo di pubblico betlemme agli angeli ha registrato migliaia di visitatori portando sempre più persone tra i cortili della città antica persone pronte a rivisitare la nascita di gesù immergendosi all'interno di un'intera comunità l'appuntamento dunque è rinnovato per il natale 2023 per rivivere le emozioni che ha dato il presepe vivente agli angeli è stata ed è un'esperienza straordinaria in primo luogo per la comunità della parrocchia san domenico per i tanti amici che ci hanno collaborato e ci collaborano per questo grande evento ma è una bellissima serata davvero per tutta la città e per le tantissime persone che da diverse parti della sicilia sono venute a visitare il nostro presepe un momento di amicizia un momento di incontro un momento di comunione e anche con il con gesù bambino presente in mezzo a noi ma anche con una comunità che cammina che si impegna e che progetta un nuovo tempo e una nuova esperienza circa 8 mila persone quest'anno hanno visitato il presepe abbiamo quadruplicato gli ingressi della scorsa edizione ogni anno è sempre in crescita prossimo anno ci aspettiamo sempre ancora novità per questo vi facciamo l'invito a venirci a trovare perché è tutto un presepe autosostenibile siamo tutti un gruppo di persone chi abita in zona e chi non tra parentesi io sono solamente cresciuto però mi lega a questo quartiere di farlo rivivere e far rivivere la nostra città perché abbiamo un potenziale e lo dobbiamo sfruttare abbiamo la passione e la sfruttiamo e tutti noi animatori così chiamiamoli ma veramente sono delle persone che lavorano dalla mattina alla sera abbiamo creato questa realtà la befana alla stazione di caltanissetta centrale momenti di gioia per i bambini a caltanissetta la befana non è arrivata a cavallo della sua scopa volante il 6 gennaio ha raggiunto grandi e piccini alla stazione ferroviaria comodamente seduta sul sedile appuntamento mattutino per i piccoli accompagnati dai genitori e dai loro nonni dove alle ore 11 sul primo binario hanno visto arrivare l'arrivo della befana che ha donato loro dolcetti e caramelle dopo un lungo stop dovuto al periodo delle restrizioni anche caltanissetta ha potuto riprendere questa iniziativa che il giorno dell'epifania tocca tutte le ferrovie italiane ha dichiarato il presidente del dopolavoro ferroviario michele calabrese io mi diverto tour lello analfino entusiasma alla folla a san cataldo è stato un successo il concerto di lello analfino di giovedì sera a san gataldo in piazza papa giovanni ventitresimo l'ex front band e tinturia è stato il grande mattatore della serata che con il suo io mi diverto ha fatto cantare una grande platea che si è riversata su san gataldo anche dai paesi limitrofi lo spettacolo di lello analfino che apre la sua carriera da solista ha proposto circa due ore di musica con le nuove canzoni del nuovo album e ripercorrendo le canzoni che hanno fatto la storia detintoria un ultimo regalo natalizio fatto ai san gataltesi da parte della giunta di gioacchino comparato e del vice sindaco marianna guttilla nell'ambito delle iniziative natalizie denominate tutto un altro natale calta fiabetta scalinate da favola in piazza mercato grazia caltanissetta appuntamento con nono salamone c'era una volta un topino che viveva in città e che un giorno decise di fare una gita in campagna era stufo della vita genetica che faceva ogni giorno e voleva rilassarsi un po tra i prati verdi e all'ombra di qualche grande albero dal topo di città e il topo di campagna di esofo al topo federico di leo lionni tante le storie e avventure raccontate e interpretate nel corso dell'iniziativa calta fiabetta scalinate da favola evento che permette di stimolare la fantasia dei più piccoli e anche l'obiettivo di valorizzare angoli di città ed in particolare scalinate un pomeriggio dedicato ai bambini e bambine che hanno ascoltato nella scalinata di piazza mercato grazia con grande attenzione i diversi narratori tra loro anche il cantastore di sutera nono salamone abbiamo così pensato di organizzare una giornata dedicata alle favole alle fiabbe una sorta di dono ai bambini di questa città quindi è nato tutto come un sogno un'iniziativa legata proprio al contributo nostro personale come dicevo su proposta di vocini abbiamo creato un gruppo di lavoro un gruppo di progetto e poi hanno aderito in tanti in tanti amici tante tante persone che amano che amano questa città che amano incontrarsi e quindi è stata alla fine per noi una giornata legata al sogno alla fiabba e alla fantasia la manifestazione promossa da lega ambiente in collaborazione con l'amministrazione comunale altre realtà del territorio come scuole e associazioni è una piccola anteprima di un progetto più ampio da riproporre in città in un mese più caldo ovviamente le fiabbe sono dedicate soprattutto a loro e l'obiettivo è quello di essere questa una tappa sperimentale che abbiamo la speranza in collaborazione con l'ambiente non solo di ripetere nella prossima primavera che ci possa servire a contribuire a rendere il centro storico un momento di incontro, spazio di incontro per i piccoli e per i grandi tutto quanto l'attività natalizia è stata incentrata e organizzata per i bambini soprattutto l'intento è quello di, ripeto, nella politica di rendere i quartieri e il centro storico soprattutto uno spazio da vivere e condividere abbiamo intenzione ovviamente di rendere protagonisti i bambini su tutti quanti I Carusi di Pirrera, seminario di studi con le riflessioni sui libri di Filippo Lamanna e Michele Rondelli con il seminario di studi I Carusi di Pirrera tenutosi nell'atrio della fondazione sicana si è concluso l'ultimo appuntamento di Alchimia l'argomento è stato tratto da due libri il saggio storico La condizione dei Carusi della Sicilia dello Zolfo del professore Filippo Lamanna e il romanzo Testimoni sepolti di Michele Rondelli Il mio libro parte da una esigenza, quella di non fare perdere il ricordo di una strage, 89 morti, nella miniera di Casteltermini più precisamente nella miniera di Cozzottisi quando mi sono reso conto del fatto che questo evento non trovava più posto nella memoria dei Castelterminesi ma anche di tutte le persone in Sicilia ho deciso di fare una ricerca in un primo momento c'è stato scrivendo un saggio poi ho virato verso il romanzo proprio per far sì che questa strage non fosse dimenticata ed è una strage particolare perché in un primo momento si credeva che ci fosse stata un'esplosione poi in realtà si è scoperto che l'esplosione non c'è stata e che gran parte di questi sono stati sepolti vivi Nel ricordo di Massimiliano Chiarenza amici in campo a Caltanissetta Un minuto di raccoglimento e un omaggio floreale alla mamma prima del calcio d'inizio questi momenti salienti che hanno preceduto l'avvio del quinto memorial di calcetto per ricordare il giovane Massimiliano un'iniziativa promossa dagli stessi amici con il coinvolgimento del consigliere Fabrizio Di Dio e abbracciata dall'assessorato allo sport del comune di Caltanissetta un giovane scomparso prematuramente che negli anni è stato ricordato non soltanto attraverso manifestazioni sportive come questa il primo memorial infatti è stato organizzato nel 2013 ma anche attraverso la solidarietà infatti ad esempio in occasione della presentazione di una canzone a lui dedicata sono stati raccolti i fondi da destinare ad una realtà del territorio o ancora a lui è stata anche intitolata un'aula in una scuola Massimiliano Chiarenza un ragazzo stupendo, meraviglioso che è venuto a mancare dieci anni fa che con il suo sorriso praticamente regalava la gioia a chi gli stava vicino e ai suoi amici e noi vogliamo per me aver contribuito ad organizzare questo evento ringrazio l'assessore Caracausi che ha dato disponibilità del campo con l'amministrazione per me è stato veramente un piacere ed è stato addirittura emozionante dopo l'assenza del memorial per qualche anno dovuto al covid e anche perché la famiglia si è ritirata un po' per motivi propri hanno ripensato questi amici di Massimiliano grazie all'aiuto anche del consigliere Fabrizio Di Dio a organizzare questo quinto memorial per ricordare Massimiliano l'affetto sempre vivo di questo ragazzo giovane che gli amici che stanno giocando e altri lo chiamano gigante buono perché mio figlio era un tipo alto un metro e novantaquattro di altezza era possente come fisico e gli amici chiaramente lo chiamano gigante buono perché era buono di carattere affabile, sorridente eccetera delle cose che la famiglia non pensa che un ragazzo così dall'oggi a due anni sparisce ma viene sempre pensato sia degli amici sia di chi lo conosceva come un ragazzo sempre disponibile, buono un ragazzo educato ovunque e quindi viene ricordato sempre diciamo in base alla sua azione l'affetto che aveva, il sorriso Massimiliano era un amico di tutti a dire la verità abbiamo organizzato questo memorial proprio per ricordarlo per fare in modo appunto che il suo ricordo continui ad essere sempre vivo nei nostri cuori diciamo la mancanza è tanta siamo vicini alla famiglia in questo dolore che giustamente non ha tempo però nel nostro piccolo facciamo questo e speriamo che possa sorridere da lassù Calcio prima vittoria dell'anno per San Cataldese e Nissa i Verdi Amaranto si impongono a Sant'Agata i Biancoscudati superano il Casteldaccia al Marco Tomaselli Comincia con un successo in trasferta il 2023 della San Cataldese che nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie D espugna il difficile campo del Sant'Agata con un gol di Zerbo all'ottantaduesimo una vittoria maturata nei minuti finali della partita dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato la squadra Verdi Amaranto ha saputo trovare con determinazione la via della vittoria tre punti che consentono la squadra allenata da Pietro Infantino di compiere un notevole balzo in avanti nella classifica del Girone I lasciandosi alle spalle la zona più calda quella dei play-out i risultati della diciottesima giornata Canicattì-Lamezia 2-2 Castrovillari-Licata 0-4 Catania-Ragusa 3-0 Cittanova-Cireale 0-0 Locri-Santa Maria 1-1 Paternore-Alaversa 0-0 Mariglianese-Trapani 2-1 Vibonese-Sanluca 3-1 Sant'Agata-San Cataldese 0-1 la classifica Catania 45 punti Locri-Lamezia 33 Vibonese 31 Licata-Sant'Agata 29 Trapani 23 San Cataldese-Ragusa 22 Real-Aversa 21 Castrovillari 20 Santa Maria-Canicattì-Eacireale 19 Cittanova 18 San Luca 17 Paternò 15 Mariglianese 8 Nel campionato di eccellenza la Nissa supera 4-2 il Casteldaccia al Tomaselli Biancoscudati in vantaggio con Sacco all'inizio del primo tempo L'1-0 a Freddo taglia le gambe agli ospiti che capitolano per la seconda volta al dodicesimo rete siglata da Dibbiase su calcio di rigore Al ventunesimo il Tris biancoscudato messo a segno da Esposito Al quarantaduesimo il poker nisseno è servito con Lusero Sul 4-0 nella ripresa il Casteldaccia corcia le distanze con Monti all'undicesimo al ventiquattresimo altro acuto dei palermitani con Minnone I risultati della sedicesima giornata Cus Palermo Castellammare 1-0 Don Carlo Profavara 1-2 Enna Mazzarese 2-1 Leonfortese Acragas 0-3 Resuttana Parmonval 5-0 Sciacca Gela 1-0 Mazzara Oratorio Marineo 0-0 Nissa Casteldaccia 4-2 La classifica Acragas 39 punti Enna 38 Profavara 34 Don Carlo 32 Mazzara 29 Sciacca e Mazzarese 27 Nissa 22 Casteldaccia Castellammare 17 Leonfortese 16 Oratorio Marineo 15 Resuttana e Cus Palermo 11 Gela 9 Parmonval 5 Sono qui per fare la storia della Nissa così l'imprenditore Luca Giovannone è presente ieri allo stadio per assistere a Nissa Casteldaccia Ieri al Tomaselli c'era anche l'imprenditore Luca Giovannone che ha seguito interamente Nissa Casteldaccia assicurando il suo impegno accanto ai dirigenti della società bianco scudata anche l'anno prossimo Soddisfatto per la vittoria della squadra di Alessio Sferrazza Giovannone ha parlato di programmi ambiziosi annunciando l'arrivo di due giocatori importanti in proiezione futura per puntare nella stagione 2023-2024 al salto di categoria Finalmente ho visto una Nissa dominante così come la voglio io siamo sulla buona strada per migliorarla sempre di più in settimana arrivano altri due importanti giocatori che contribuiranno a questo discorso verso il futuro di una squadra che l'anno prossimo è mia intenzione che punti direttamente a vincere il campionato Quindi tifosi della Nissa possono sognare? Possono sognare perché sono qui non per fare una comparsa ma sono qui per fare la storia della Nissa E noi saremo qui a raccontarlo allora Forza Nissa! Volle in serie B2 femminile l'Alba Verde Caltanissetta torna al successo superando il Crotone Inizia bene il 2023 dell'Alba Verde che al Palacanizzaro con un netto 3-0 agnienta la pallavolo Crotone, batte una grande squadra e comincia a sognare Dopo la sconfitta ad Erice si era messo in dubbio il reale valore della formazione nissena e la prima risposta è arrivata contro il Crotone che si presentava da capolista al Palacanizzaro E' stata una vittoria netta arrivata al termine di una gara dove la maggior parte dei punti sono arrivati per delle belle giocate che hanno ammaliato il numerosissimo pubblico che sta dimostrando di credere in questa squadra ed è stato pienamente ripagato Adesso trasferta insidiosa sabato 14 gennaio nel campo della capolista Zafferana I risultati della dodicesima giornata del campionato di serie B2 Girone M Funivia Etna Procorie Ricina 2-3 Stefanese Volley Region 0-3 Gioiosa Planet 3-0 Alba Verde Pallavolo Crotone 3-0 Cuscatania Zafferana 0-3 Ardens Comiso Saracena 1-3 Fidelis Torretta Bricositi 3-0 La classifica Zafferana 32 punti Alba Verde 31 Pallavolo Crotone 29 Procorie Ricina 26 Gioiosa e Fidelis Torretta 23 Cuscatania 21 Funivia Etna 18 Volley Region e Saracena 15 Bricositi 9 Ardens Comiso 6 Stefanese 3-0 Chiude la Planet 1-0 Per tutto vi lascio al meteo e le informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà ancora sulle regioni meridionali attiva la perturbazione giunta nell'ultima ore Questo centro di bassa pressione piuttosto profondo si sposta sì verso la Grecia però molto lentamente E poi si prepara una nuova perturbazione a raggiungere le regioni settentrionali ma questo solo nella giornata di mercoledì Quindi controlliamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia Al nord attornano ampie zone di sereno anche sul medio alto tirreno Invece medio adriatico e sud avranno ancora un martediale in segna di molta variabilità e instabilità Infatti se controlliamo la previsione delle precipitazioni ritroviamo ancora degli acquazzoni sul medio adriatico Sulle regioni meridionali anche qualche fiocco di neve sull'Apenino centrale Invece ripeto al nord è medio alto tirreno con ampie schiarite Quindi in definitiva ci attendo un martedì ancora variabile tra basse marche, Abruzzo, Molise Regioni meridionali con ancora degli acquazzoni forse anche qualche temporale in Puglia Poi piano piano comunque questa perturbazione lascerà in pace anche queste zone Quattro meno a fine giornata si allontana definitivamente Al nord è medio alto tirreno fino ad arrivare alla campagna e in Sardegna Bel sole ma attenzione in tutta Italia parecchio vento Chi più chi meno sulle isole maggiori maestrale davvero di forte intensità In tutto il sud 20 sostenuti ai quadranti settentrionali e 20 di Fön sulle regioni di nord-ovest Per tutta Italia a questo punto sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, San Pio X, via Napoleone Colaianni Servizio notturno, al Duomo, via Filippo Paladini Servizio notturno, Sal?! Grazie a tutti.